Cerca di pescare il compagno con il filtrante Beh, direi che adesso è il recupero del recupero Trova il compagno, prova la conclusione La scuola con volta Proviamo in pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo del riposo Aveva tutto lo scolto della porta a disposizione Non ha mancato la porta di fronte Si è inserito molto bene nello spazio E ha concluso con credenza Grazie